L'ottava giornata del massimo torneo dilettantistico rida a quota arrende che nella gara interna contro l'Igia Virtus, diretta concorrente, si impone con un netto 2-0, recuperando così lo scivolone della scorsa settimana nel derby con la Palmese. Sono ora 17 punti in classifica e terzo posto. La Palmese di Dal Torrione non va oltre lo 0-0 contro Gela. Al Presti finisce a reti inviolate, ma tranne qualche acuto dei locali, i calabresi sono riusciti a mettere in difficoltà la compagina avversaria, scendendo in campo ordinati e compatti, forse mai troppo pungenti. La nota positiva è comunque quella di non aver preso gol. Il Castrovilla ritorna con le ossa rotte da Gragnano. I padroni di casa si impongono con un risultato tennistico 6-2 che lancia negli abissi più profondi la squadra di Franco Viola. A fare compagnie al Castrovillari ci sono il Roccella e il Sersale, uscite sconfitte rispettivamente dal Pomigliano e la San Cataldese. Il Roccella pare non aver trovato ancora la strada giusta, sono ormai 5 le sconfitte, solo una la vittoria. Sempre peggio per il Sersale, ancorata all'ultimo posto in classifica con un solo punto. Ora la strada è tutta in salita. Maria Chiara Sigillò per la Cignus 24.